forza scicosissima. Il nostro tempo è finito su Canale Italia 84, adesso collegatevi, siamo sul 126. Ringrazio e saluto le clienti che magari non hanno il 126, ci rivediamo giovedì prossimo, invece aspetto tutte voi che avete il 126 fra qualche minuto. Poi molto belle, io le trovo stupende queste due tris, io me le metterai via per l'inverno a questo prezzo perché costavano il doppio, me le metterai via perché le abbiamo messe a 60 euro le tris, le tris, quindi tre borse in una, bellissime in questa lavorazione verniciata verde bosco, che però non è un verde bosco, è più ottanio, non so se voi in televisione riuscite a vederlo bellissimo questo colore, con la base nera, tre buste morbidissime, sofficissime veramente e poi bordeaux, ecco io queste le metterei via già per l'inverno perché sono due borse meravigliose a 60 euro, un regalo, meraviglioso questo effetto laccato, verniciato, sempre su una borsa nera, tris, sofisticatissime, poi diventano veramente comode perché sono tre scomparti, quindi in una mettete il telefonino, in una mettete il telefonino, in una mettete il portafoglio, in una mettete le chiavi di casa, questa mi riservo di venderla perché vedo che manca la nappina, eventualmente vedremo cosa fare se farcela aggiustare dall'artigiana, questa è a posto, sono tre, magari si è anche tolta a noi nell'usandola, invece allora è disponibile la verde che è l'otto 200, la volete una balla collana scontata da 2,50, il lotto 3, il lotto 34, meravigliosa, il lotto 34 diventa 170, anche questa è il 30% di sconto, è una collana preziosissima, con un cammè, ho lavorato molto bene con dei fiori, guardate che bello che è, poi abbiamo ematite color argento e poi abbiamo un torchon elegantissimo con questi abbinamenti, queste pennellate delicate di colori pastello, dati dai rosa, cipria, vedete, dai quarzi rosa e dalle agate sui toni del grigio, raffinatissima, pezzo unico da 2,50, 30% di sconto, 170 euro, ve la faccio vedere anche indossata, che meraviglia, è una collana da mettere tutto l'anno, primavera, estate, autunno, inverno, senza problemi, proprio, guardate che chic, adesso io ho il microfono sempre in mezzo quando misuro le collane, guardate che meraviglia, potete portare il cammè, appunto, laterale, se siete intenditrici, vi piacciono le mie collane, a 170 euro, qua fate veramente un affare, un affare d'oro, collana, tutta lavorata a mano, montata tutta in argento, una lavorazione molto bella, molto preziosa, con un bel moschettone anche d'argento, che adesso lo apro, comodo, eccola qua, vi do anche la lunghezza, guarda, tutta lavorata in argento, anche tutti gli elementi, questo è argento, argento rosato, bellissima, la lunghezza di questa bella, bella, elegante collana è di 80 centimetri, prendetevela, approfittatene perché è a 170 euro, è un regalo, anche questa è un regalo, una borsa in pelle color turchese scontata a 100 euro, meraviglioso, abbiamo lavorazione tipo borbonese, vedete in questa parte bassa, tutta lavorata così con questa lavorazione particolare, poi abbiamo la borsa in pelle, abbiamo la Grimani, l'ultima che ci è rimasta, veramente un affare per chi la riesce a prenotare, a 100 euro, sono borse da 400, ma come minimo, fatte tutte a mano in Italia, meravigliosa, veramente grintosissima, si può portare anche a busta, eccola qua, a 100 euro, pezzo unico, morbidissima, lotto numero 21, 100 euro, ricordatevi che c'è questa meravigliosa collana, il numero 42 che da 480 l'abbiamo messa a 330 euro, lotto numero 42 è una scultura fatta tutta con conchiglie rosa, cristalli, compresi anche dei suoi orecchini, a 330 euro, un capolavoro, meravigliosa, qualche pezzo ancora forse disponibile di questa bella casacchina, 50 euro sempre e vado a pescare altri bei, guarda che bella quando si affloscia questa borsa, che morbida, la potete vedere la morbidezza, la borsa turchese è veramente chiccosissima, una firma, prenotata la Berger e mettiamo da parte le cose per noi, ah poi ci sarebbe un'altra occasione, allora la di Gregorio, anche questa è un bellissimo marchio italiano, molto raffinata questa borsa in bianca e blu, guardate com'è il dettaglio, per esempio la firma che c'è anche sulla con la sua tracolla, guarda la tracolla, guarda che sciccheria di borsa, di Gregorio bianca e blu, firmata anche la stoffa internamente, anche questo è un marchio che punta molto per il Made in Italy per l'estero, ha una firma insomma che è molto conosciuta, di alta qualità, ha lavorato con cura artigianale, materiali selezionati, allora vediamo questo cartellino qua pieno di numeri, dovrebbe essere il lotto, allora è 25 per 25, dovrebbe essere il lotto 205, un secondo che controllo perché qua c'è una fila di codici, 205, eccolo, giusto 205, scontata del 30%, quindi da 220 euro, 154 euro, 154 euro per questa meravigliosa, nella sua semplicità ma raffinatissima borsa, in colore blu e bianca, con la sua bellissima tracolla, anche questo è un pezzo, vedete la tracollina, da acquistare visto che è anche scontato e un capo, questo è un'opera d'arte perché sono tutte fatte a mano, che mettete in tutte le stagioni perché il bianco e blu è un classico, di tutte le stagioni, guarda che borsa, guarda che meraviglia, squadrata, giusta, anche come misura non è troppo grande, meravigliosa, scicosissima, poi l'ultima che ci è rimasta di De Gregorio, che possiamo anche scontarvi, io questa la trovo di un bello, questa forma è originalissima, anni 50, un po', anche il colore di questo bel verde pastello col beige, mi richiama un po' anche gli anni 50, con la taschina davanti, dentro è raffinatissima, guardate, doppio scomparto, con la borsa che si può anche togliere se volete, si apre, una bellissima borsa dove all'interno sempre sono studiati con dettagli sempre in pelle preziosi e tessuti in raso, meravigliosi, morbidissimi, firmati, una borsa così bella, guarda, è stupenda, anche con la sua tracolla, vediamo dov'è la sua tracollina, in beige, naturalmente non poteva che essere giustamente beige, con anche la sua tracolla, andiamo a vedere cosa vi possiamo fare oggi per farvi veramente felici, allora Made in Italy scritto dappertutto, allora costava 220 euro, anche qua notate, abbiamo già messo sempre dei prezzi buoni perché su delle borse firmate italiane, veramente abbiamo su pochissimo, pochissimo perché se le fanno pagare profumatamente, e pur di avere questi bei marchi, questi bei design, noi le paghiamo profumatamente, allora scontata adesso veramente è un affare, già 220 era un affare, meno il 30, sempre per il lotto 204, torniamo indietro di un numero, l'altro era 205 e 34 di misura per 30, sempre a 154 euro, stupenda, veramente una borsa preziosa, una borsa originale, una borsa diversa, una borsa difficile anche come abbinamento da imitare, un design con queste maniglie tutte fatte a mano, guardate, in legno rivestito tutto di pelle, stupenda, veramente di design, meravigliosa, poi le ultime due da collezione che mi sono rimaste, faccio un piccolo sconto anche di questa, anche questa è una linea che abbiamo presentato circa un mese fa, che è andata alla grande nella versione cuoio, gliel'ho fatta a tante clienti, è piaciuta tantissimo, mentre nel rosa qualche pezzo, però devo dire che ha vinto il cuoio, però adesso è terminata, ci sta producendo dell'altro, con la sua bellissima anche, se volete portarla la tracolla originalissima, tutta rifinita, ognuna ha il suo colore, guardate che è una meraviglia, facciamo un piccolo sconto, da 130 a 100 euro, la faccia è sempre un buon sconto, questo, l'817, la 17 ha il 20% di sconto, la 17 vi costa 100 euro, strutturata, originale, una forma anche questa, guarda com'è all'interno, anche questa è bella ampia, c'ha una bella tasca, vedete, laterale, bella rifinita molto bene, tutti i pezzi Medimiteri, bellissimo, il colore rosa cipria, allora con anche la sua tracolla, che già questa ha un bel valore, e vediamo anche la misura di darvela, così, una quadrata di 30 centimetri, dai facciamo, sarebbero 29, 29 per sempre 29 a quadrata, poi c'è il suo bel manico, alto, perché arrivate a metterlo, è 27 centimetri, guarda che bella che è, portata anche proprio così a tracolla, sarebbe già collezione autunno, io vi ho già proposto con questi modelli la collezione nuova, solo che queste basta, sono già terminate e questi sono gli ultimi pezzi, quindi ce l'ho nella versione rosa cipria, che andrà tantissimo, ho fatto tutte le camicette, io di questo colore per l'autunno e inverno, meravigliose, e poi ce l'ho anche in grigio, in beige, scusate, bellissimo, anche questo sarà un colore per questo inverno, vi stiamo già facendo vedere scontati i pezzi per la prossima stagione, in poche parole, perché a me sapete che piace sempre andare avanti, andare avanti, e tante volte mi faccio produrre le cose già dell'inverno e ve le presento a giugno, a luglio, allora lato numero 18, borsa Tony beige, da 130 a meno il 20, 100 euro, questa vediamo per esempio dentro la sua, vedete che è fatta apposta, non c'è nulla di fatto in standard, la sua bella tracolla, ognuno ha la sua che va in pandan con la borsa, meravigliosa, bellissimo accessorio, questa borsetta, un bellissimo accessorio moda, anche portarla con la sua tracollina, ecco questo poi è il davanti, con la cerniera e in più una tasca, quindi cerniera vera e tasca davanti, comodissima, proprio per organizzare gli spazi, è una bella borsa, veramente, da prendere senza problemi proprio a questo prezzo. Poi vediamo, cosa vi posso far vedere? Ah i caftani, mamma mia, prima è venuto Andrea, mi ha portato un altro caftano meraviglioso da mostrarvi, allora io faccio un giro veloce sui caftani prima di, quanto siamo, quanto abbiamo ancora? Perché voglio far vedere ancora un po' i caftani, poi vorrei anche far vedere altre cose, ok, se ci sono delle richieste poi me ne mettono tutte su un foglietto e faccio vedere i primi pezzi, allora ricordiamoci, i nostri meravigliosi caftani, incontrarli è stata una magia per me, perché io veramente mi sono innamorata di questo prodotto, veramente sono soddisfattissima anche per come sono piaciuti a voi e d'altra parte le cose belle secondo me a tutte piacciono, i nostri colori che vi fanno bella, che seducono, che rendono speciali tutte le nostre clienti quando li indossano e quindi da non perdere quelli di oggi nella versione lunga, come avete visto prima, è il lotto 215 che ha questi meravigliosi colori, poi faccio una veloce carellata perché qualche pezzo c'è ancora disponibile, voi chiamate pure e volentieri se ci sono ve li facciamo avere, allora la lunghezza, poi siamo agli sgozzoli e ne avremo ancora per una puntata e poi basta, lotto 214, allora la lunghezza dei caftani e questi che vi ho appena fatto vedere, sono lunghi fino ai piedi praticamente, adesso ve la dico esattamente perché adesso a memoria non me la ricordo per non sbagliare, allora i lunghi lunghi che ne abbiamo fatti solo 4-5 modelli lunghi fino ai piedi e sarebbero costosissimi ma li abbiamo lasciati a solo 10 euro in più, allora taglia unica 145 di seno, 140 di lunghezza, meraviglioso il 214, ecco non so se è ancora disponibile con tutti questi bei disegni cashmere, con questa lavorazione, questa, allora noi siamo onestissimi e non ci permetteremo mai di farlo, ma c'è giunta voce che cose così belle fatte in questa maniera e di questa qualità venivano, adesso è una legge che se becca chi lo fa è penale e va in galera, ma venivano tolte le etichette del poliestere e veniva messa seta su questi capi, perché sono talmente perfetti, talmente leggeri, talmente luminosi come la seta e anche la palpabilità, diciamo, è quella della seta che veramente l'effetto è quello della seta. Noi li abbiamo voluti fare apposta così perché sapevamo che era il meglio che potevamo avere, il risultato migliore che potevamo avere per creare questi meravigliosi disegni, queste meravigliose stampe, il crep silk, create tutte a mano, elaborazione digitale, create, poi vedete tutti rifiniti a mano, ognuno poi è tutto rifinito a mano, tutto tempestato di strassi, di brillantini, cioè sono veramente delle opere d'arte, vengono venduti a 10 volte del prezzo che io li vendo, cose che mi avete detto voi, che sono riuscita a sapere tramite voi. E l'ultimo, meraviglioso, proprio da incantare, è questo, grintoso, senza dubbio, il 216, animaliere, graffiante, stile, proprio per una donna che ha voglia di farsi notare, che ha voglia perché è una donna che lo sa portare e via. Qui, senza paura, il lotto numero 216, sarete le più eleganti della festa, le più attuali, le più fashion, le più uniche, veramente, meraviglioso. E come vi ripeto, questi tre sono gli unici caftani gioielli lunghi 140 centimetri, proprio lunghi fino ai piedi, poi li portate con una bella zeppona e via, insomma, con un bel sandalo alto. Poi, la stessa versione, che anche, secondo me, è super, è la versione di un metro, questi sono i normali, le misure normali che noi facciamo ormai da tutti questi anni, taglie uniche, quindi spettacolare proprio, anche questo, nella versione di un metro, è il lotto numero 212, lo rimostro, 145 di seno, 145 di fianchi, lunghezza 100 e il lotto 212. Spettacolare, anche qua, il disegno animalier abbinato, appunto, a questi poi bellissimi ramage, stupendo. Poi, lo facciamo vedere in bianco e sfondi blu e verdi, un disegno anche molto stile Japan, quindi stile kimono, come è attuale quest'anno fare la moda, ispirarsi all'Oriente, quindi abbiamo questo bellissimo disegno che è il 211, 211 è, forse, non so se è ancora disponibile, ma forse no. Poi abbiamo un altro meraviglioso che è il 212, 212, fantastico, non dico altro, no, il 210, scusate, il 210, non dico altro perché penso che magari è anche già stato prenotato, io ve li mostro, poi la settimana prossima forse ne ho qualcun altro di nuovo e poi credo che andremo ancora avanti poco con qualche pezzo unico, ma qua di poter avere il quantitativo ancora oggi e la prossima puntata, poi andremo proprio con i pezzi unici, unici, che ne avremo uno e basta per ogni modello, finché appunto li finiamo, li esauriamo. Meraviglioso anche in questa versione, devo dire che è stato un anno veramente dove abbiamo incontrato una collezione meravigliosa, uno più bello dell'altro, in effetti voi ogni settimana ne comprate, appena lo beccate uno nuovo ve lo accaparrate, vai avvicino a vedere perché sono perfetti questi disegni, ma poi tutti, tutti tempestati nella parte davanti, tutti sempre tempestati, tutti rifiniti con il suo colore giusto a mano, che rifinisce il collo, sono dei capolavori veramente. Allora, si può dire veramente la perfezione, l'otto 209 sia di qualità sia di disegno e di fantasie, l'otto 209, siamo imbattibili su questo campo, veramente addetti di tutte le nostre clienti, ma lo sappiamo anche noi, quello che c'è e quello che non c'è. Bellissimo il caftano gioiello, il lotto numero 208, 208 tema gioiello, è un modello che abbiamo voluto ripetere, dal grande successo che abbiamo avuto l'anno scorso. Come vedete ogni anno sono nuovi, anche se quelli dell'anno scorso sono meravigliosi, ne avrei venduti magari altrettanti, proprio perché piace a noi ogni anno cambiare, altrimenti avremmo potuto rifarli pari pari, tanto le clienti sono sempre nuove, ce ne aggiungono delle altre, ma sono troppo belli, tutti belli e finché c'è questa fantasia sfredata di questo stilista, ogni anno vengono cambiati i disegni. L'otto 208, poi un altro splendido che io trovo di una bellezza emozionante per l'incontro dei colori, grafismi, la geometria che è diverso da tutti gli altri, è questo che è il lotto numero 207, 207 è sempre taglia unica, sempre stesse misure, lo vedete sempre sul vostro teleschermo, l'otto 207, sempre lunghezza 100, 145 di seno, 145 di fianchi, guardiamola anche dietro, vai a vedere questo bel stacco che c'è qua nella decorazione come se ci fosse una collana di perle, poi abbiamo un bel fucsia, un'altra decorazione gioiello, scendono questi pendenti, vedete questi gioielli preziosi, su questa bellissima stampa colorata, sui toni geometrici, sui disegni geometrici dei toni del blu, del fresco azzurro, dell'arancio, del fucsia, tutti i tempestati, anche il gioiello poi davanti prosegue, guardate, è spettacolare. Veramente si esibiscono come dei protagonisti assoluti, in fantastici colori, ogni uno in fantastici abbinamenti, sono veramente tutti da comprare, tutti da collezionare, in giallo e bluet, sembra che siano proprio dei gioielli che ci sono incastonati in zaffiro blu, meraviglioso, passiamo coi corti, dovremmo avere, ecco la new entry di oggi, questo l'ho fatto vedere prima, adesso è arrivata la new entry che ve la mostrerò dopo questo, è l'otto questo, 213, dunque, dunque, i corti sono delle casacchine che vestono di 80 cm la lunghezza e vestono di larghezza 135, sono un pelettino più stretti, 135, quindi sono arrotondati, vedete? Sono bellissimi, bellissimi, io li indosso sempre volentieri e li avete visti indossati, anche a me questi modelli, stanno divinamente, questi colori solari proprio che ci danno energia vitale quando li indossiamo, i colori ci danno proprio, sprizzano energia, ci fanno belle, il lotto 213 e F213 a 55 euro, l'anno scorso e tutti gli altri anni costavano 60, visto che ne abbiamo fatti tanti Andrea ha detto dai facciamoli anche un prezzo buono e facciamo uno sconto, però sbagliando perché comunque il valore sarebbe il doppio di quelli che pagate a 60 e 80-90 euro questi, gli altri minimo minimo avrei dovuto venderli per guadagnare un po' di più al doppio, però ormai anche quest'anno li abbiamo lasciati a 60, sbagliando perché qua c'era proprio un lavoro, sono anche aumentati, abbiamo dovuto comprarne tanti, un investimento comunque che ci ha costato molto perché per fare questi nostri modelli come pezzi unici e scegliendo i disegni ne abbiamo dovuti fare tanti per ogni modello perché produrre un caftano non è che ne puoi fare 5, hai mangiato fuori il guadagno, per chi lo produce bisogna farne tanti e poi l'esclusiva si paga anche quella. Allora, regalandoli a 60 euro abbiamo avuto un gran successo, però io il prossimo anno, ve lo dico già da adesso, saranno meravigliosi sempre di più, però dobbiamo aumentarli assolutamente. Il lotto 206, il 206 è questo meraviglioso con i disegni delle ceramiche, tutti gli stilisti di moda già dall'anno scorso hanno disegnato, li avevamo già anche noi, tipo le ceramiche mediterranee, quindi taglia unica 145 di seno, 145 di fianchi, lungo un metro e 206. E poi quello che mi ha dato adesso da farvi vedere che è arrivato fra qualche pezzo nuovo che però ne abbiamo pochissimi a disposizione, è un capolavoro, ecco, nella versione casacchina, quindi nella versione corta abbiamo sempre i disegni meravigliosi del nostro mediterraneo, quindi richiamo dei limoni, richiamo delle stampe, dei disegni, delle mattonelle appunto di Caltagirone, piuttosto che appunto delle Azuleius, meravigliose, delle ceramiche, meraviglioso, guardate la, perfino vedete c'è la goccia d'acqua di freschezza nel limone, guardate che arrivare a fare questo, vedete, lo vedete anche voi, il crep, lo vedete anche voi, questo tessuto che è uguale, identico alla seta, capolavori, capolavori in esclusiva per Ophelia, vi arrivano firmati da Ophelia, vi arrivano con l'etichetta Ophelia, vi arrivano in un packaging già tutti piegati con il suo packaging e è un fuorilotto, non siamo riusciti a metterlo dentro all'ultimo minuto, quindi è un fuorilotto corto a 55 euro, meraviglioso, meraviglioso, questo se arrivava prima oggi l'avrei indossato, è meraviglioso, veramente, guarda, riprendilo bene perché è un capolavoro, è un quadro, veramente, quindi ve li ho fatti rivedere così abbiamo anche magari mostrato alle clienti che arrivano, le clienti che rientrano più tardi, sono riuscite magari a beccarsi qualche caftano, allora l'870, adesso mi riprendo il mio piedistallo, lo rifaccio vedere aperto, guarda, vedete perché io non li mostro mai più di tanto perché non sono una che vuole star troppo sui lotti, mi piace farne vedere tanti, mi piace dare la scelta, mi piace proprio farvi quasi impazzire ogni settimana perché ne abbiamo veramente tante di cose e per fortuna comunque riesco a farli vedere bene per poterli anche vendere perché altrimenti se le cose non le vedete bene magari poi non siete sicure, ecco però guarda io mi dimentico sempre di farvi vedere benissimo da vicino, ogni anno ne comprate e nessuna che ci ha telefonato a lamentarsi e a dire che magari si è rovinato, questi li lavate in lavatrice a 30 gradi, poi li tirate fuori, li stendete e non serve stirarli per le vostre vacanze, per le vostre valigie perfette del mare, sono i capi giusti da mettere in valigia, ecco hanno tutte le etichette appunto che ha crepe silk e si lava a 30 gradi, ok? Andiamo avanti, allora mi prendo dunque dove avevo detto che mi prendevo il mio espositore, questo lo lasciamo qui un attimo magari così potete rivederlo e allora abbiamo ancora da farvi vedere altri prodotti scontati validi, validi, queste magliette per esempio di Germana Luppi, Germana Luppi a 40 euro e l'otto 170 lunga 69 centimetri, un attimo che mi prendo la lista che ho perso il filo, allora la 170 è, abbiamo anche pantaloni, la 170 è lavorata a patchwork con tessuti vedete di sartoria, Germana Luppi per dire lavorava per Gaimattiolo, ecco guarda, guarda che meraviglia, allora abbiamo a 40 euro toglia unica 106 di fianchi, 95% viscosa, 5% elasticizzata, lunghezza 69 euro, anche in fondo è tutta pizzo, guarda è stupenda, tessuti di qualità, something new è questo marchio di Germana Luppi per questa linea che trattavamo l'anno scorso, che quest'anno non c'è più, fanno altre cose, allora bellissime anche questa è una proposta che vi faccio con il suo fularino, la sua sciarpina, è una casacca sempre italiana, molto chiccosa, molto bella, tutta rifinita con, ricamata con paillette, bellissimi toni secondo me del beige, del viola e del nero, sotto c'è la sua doppiata, guarda, guarda che onde, guarda che disegni, che meraviglia che ha questo capo, vediamo, vediamo cosa costa, 40 euro in lotto numero 171, abbiamo fatto proprio impazzire, impazziamo con questi prezzi, allora lotto 171 misura 114 di seno, 112 di fianchi, lunga 64, questa vi prometto che se non la comprate me la prendo io, è meravigliosa, ve la faccio vedere bene da vicino, ma ditemi voi, guardate che ha un affare, guardala bene, si vedono i colori, guarda, guarda che capolavoro, guarda che sfumature, che raffinatezza, con la sua sciarpina, solo la sciarpina costa 40 euro, è un poliestere, ma sapete che sui tessuti tante volte non si può fare a meno di usare il poliestere, perché non c'è una sostituzione, la sostituzione di questo potrebbe essere solo la seta, e questo era un prodotto che costava tantissimo, lo stesso, anche se non era in seta, a fare, 40 euro, a fare fatto, poi, canotte, tutte fatte a mano, nere, con pizzo, guarda che meraviglia, tutto ricamato, nera, base nera, l'872, lunghezza 65, taglia unica, 116 di seno, bella, grande, ampia, 124 di fianchi, anche questa occasionissima, prezzo 39 euro, per questa canotta in viscosa, tutta ricamata, dietro, davanti, meravigliosa, anche questa è un lotto che fa parte della collezione dell'anno scorso, però attualissima, cioè, gli manca qualcosa? Vedete che anche le cose belle dell'anno prima le tirate fuori volentieri dall'armadio, le mettete perché sono particolari, le cose particolari non stufano mai, a 39 euro, questa a 39 euro è un grande affare, bellissima, bellissima, guardate la composizione, abbiamo sul lato il lurex, bellissimo, lato lurex, stampa di disegno camouflage, abbiamo le paillette appoggiate su un tulle, davanti, dietro nelle barre sempre laterali, nei lati ci sono sempre questi tessuti elasticizzati in lurex, doppiata, doppiata con la sua magliettina, canottina, leggerina, trasparente, di viscosetta, quindi fresca, fresca, anche questa è un affare, mi siedo un secondo, l'873 a 39 euro, l'873 taglia media, 98 di seno, 102 di fianchi, solo questa, lunga 64, quelle che si lamentano che non ho mai cose piccole, che se le prendano perché un'occasione così non la troveranno mai, neanche al mercato, veramente, cioè al mercato non trovate sicuramente cose così magari particolari, l'873 a 39 euro, prendeteve, è stupenda, poi dell'anno scorso stupendi, mi sono rimasti dei pezzi unici che sono dei vestiti, meravigliosi, ve li ho messi a 40 euro, anche qua, grandi affari veramente, telefonate in fretta perché sono tutti pezzi unici, le fantasie sono meravigliose, sono sempre linee create dal mio stilista di moda che fa i caftani, lo vedete che c'è il suo zampino per degli abiti meravigliosi, sono tutti foderati, lo appoggio qua, bellissimo, bellissimo, guardate che colori, sempre i disegni mandala, è fatto vedete per una taglia magra, questo si vede che è piccolino per una taglia piccola, però a 40 euro, se c'è una 96 di seno oppure una 92, aspetta che hanno messo sbagliato, c'è la 92 di seno, la 96 di seno e la 97 di seno, abbiamo media, no scusatemi qua mi hanno proprio scritto male la lista, la leggo da qua, allora abbiamo la media che fa 86 di seno, 127 di fianchi, lungo 126, poi abbiamo la large che fa 92 di seno, 132 di fianchi, lungo 127, è un centimetro in più, poi l'XL 97 di seno, 138 di fianchi, costava 80 euro che era già un buonissimo prezzo e adesso vi costa 40, scusate, la bellezza, grandi balce, vedete abbiamo una, abbiamo tre balce, tre balce, elasticizzato al stile impero, ecco quindi a 40 euro se pensate di stare bene dentro in questo vestito, telefonate al volo, altrimenti ce l'ha anche uguale come disegno nella versione fiori, ecco guarda c'era il cartellino qua, il cartellino del prezzo dell'anno scorso, 80 euro, tutto foderato anche questo in bianco, meraviglioso, anche questo fiore bellissimo, di questo che è il 175 è rimasto solo l'XL che fa 97 di seno, 138 di fianchi, lungo 129, è spettacolare questa fantasia, ve lo immaginate che bene che vi starà un abito come questo, bellissimo mamma mia, se andasse bene a me, sempre collezione anche qua, quest'anno non li abbiamo fatti gli abitini, ci siamo concentrate solo sui caftani e questo fa parte sempre di questa bella collezione in, vediamo questo, è l'876 sempre scontato a 40 euro, sempre in poliestere, lunghezza 93, freschissimo, doppio strato, doppio pannello praticamente, bellissima fantasia, lo scontiamo a 40 euro, vi diciamo che taglia adesso, vi dico che taglia, è rimasta solo la large, 100 di seno, 110 di fianchi, lungo 93 cm, puoi andare vicino a vederlo la fantasia, guarda che bel geometrico, bella base di beige con verde, con rosso, con giallo, carinissimo, poi lo guardiamo anche dietro, proprio un bel pran di sole, è un bel abito pran di sole, questo sarà una 46, sapete questa taglia, poi sempre in viscosa questa volta, un bellissimo abitino in viscosa con questi bottoncini, sempre scontato al 50 e a 40 euro, 100 cm di lunghezza, 96 di seno e l'otto 177, andiamo a vederlo anche questo nei particolari, nella parte finale, vedete questa lavorazione, come se l'abito fosse aperto ai bottoncini, che però sono finti, non si può aprire, e però c'è tutta questa lavorazione a rilievo, splendido, lo guardiamo anche dietro, è l'otto, quindi 177, disponibile solo questo, nella misura media, 96 di seno, 101 di fianchi, splendido, lungo 100 cm, questo è 100% viscosa, delizioso, anche come abbinamento bianco-azzurro, beige-azzurro, poi un altro bellabitone, bellissimo a fantasia, sempre stile impero, con le balze, anche qua incontriamo dei bellissimi colori, a 40 euro, anche questo a metà prezzo, lungo 126, abbiamo la fada, sempre 100% cotone, mentre il sopra è un Giorgette di poliestere certificato, no scusa, Giorgette, trasparente, sempre disponibile nella taglia media, 86 di seno, nella taglia large 92 di seno, nella taglia XL 97 di seno, lungo 126, stile impero, abbiamo 100% cotone e 100% sopra lo strato in Giorgette, in poliestere di Giorgette, stupendo, 40 euro per il 178, anche questo era un pezzo che costava 80 euro, già scontato però comunque, 80, vi abbiamo dato dei gran bei vestiti a 80 euro, adesso a 40, da prendere subito, senza problemi, questo è un capolavoro, questo è un capolavoro, anche questo è un capo da alta boutique, è uno scamiciatino con le panze al seno, un tubino, foderato, rosso, mamma mia lo mettereste anche questo autunno di questo colore, a 40 euro anche questo, è un regalo, ma costa questo fiore, 40 euro, guarda ha fatto tutto a mano, che si può anche, vediamo, no, no, questo è attaccato, dietro guarda com'è, guarda che abito, spettacolare, ma dai, guarda che è simbolico il prezzo, noi l'abbiamo pagato più del doppio noi questo abito, meraviglioso, ma gli sconti devono essere sconti, devono essere vantaggiosi, eccolo qua, taglia 96 di seno, 100 di fianchi, lungo 100, alla lunghezza del caftano, ricordatevi, 100 alla lunghezza dei caftani, 40 euro, 100 per cento per essere da sartoria, seggificato, lunghezza 100, taglia 48, ha un vestito da 200 euro, ma come niente, come ridere da 200 euro a 40, ecco i pantaloni, allora, pantaloni, allora, nero, lavorato comodo, lavorato in fondo, quest'anno vanno tantissimo, ancora di più dell'anno scorso, tipo tuta in fondo, hanno il polsino, come vedete, allora, pantaloni neri, in viscosa e poliestere, sempre questa bella azienda che ci fa i pantaloni di qua del nord, che ha specializzato in pantaloni prodotto italiano, c'è proprio scritto specificatamente, leggete pure il cartellino, prodotto italiano, questa è una 46, lotto 180, solo questo, 80 di vita, però c'è l'elastico e 106 di fianchi, lungo 98, 35 euro, per favore se lo prenotate, prenotate qualcos'altro, perché per 35 euro, o ci pagate voi le spese, perché non possiamo pagare le spese su un prodotto da 35 euro, lotto 180, poi un altro bellissimo pantalone, anche questo regalato, ecco i pantaloni, prendetevene due magari, a 35 euro, il lotto 181 a palazzo, anche questo a 35 euro, lunghezza 106, 100% viscosa, guardami che bel disegno che ha, geometrico, da mettere con tinta unita, rigorosamente tinta unita sopra, magari mettere una bella casacchina in lino, eccola qua, nera, lotto 181, oppure bordeaux, oppure beige, disponibile nella taglia 42, che fa 76 di vita, 100 di fianchi, oppure nella 44, che fa 80 di vita, 105 di fianchi, la gamba è bella larga, domani vi chiamiamo poi per confermare tutte le misure, poi comunque sappiamo che le taglie le veste giuste, se avete una 42 chiamate, se avete una 44 chiamate, per 35 euro è veramente un bellissimo pantalone, poi vediamo il 50, qui c'è un 50 bellissimo, a Capri, modello Capri, il 50 è il lotto numero 182, disegno anche qua molto raffinato, vedete, con dei fiori, dei ramage, su sfondo bianco, azzurrino, carta da zucchero, con contorni blu, sono molto comodi, qua c'è scritto come appunto, quindi una 52, molto comodo, molto elasticizzato, anche bello largo di gamba, pezzo unico, sempre 35 euro, fa 94 di vita, 102 di fianchi, quindi anche qua molto comodo, questo bel pantalone a 35 euro, vi può arrivare a casa molto comodamente, è anche questo che è un pezzo unico, è meraviglioso, questo fiorellino, il lotto 183 a 35 euro, sono stati tutti messi a metà prezzo, ma guarda che fantasia delicata, raffinata, ma guardate come sono rifiniti bene e con lo spacchetto, sempre un modello Capri, è il 183, sempre taglio a 50, lunghezza a 87, qua abbiamo cotone, 97% cotone, 3 elasticizzato, andiamo a vederlo anche questo, aprendolo, che bel pantalone che è, e anche questo scontato a 35 euro, anche con i cinturini, se volete metterci una cinturina, 72 di vita, 90 di fianchi, regalissimi, vi prego se li prenotate di aggiungerne un lotto o se avete già comprato qualcosa di aggiungerli, perché a 35 euro non ce la facciamo a spedirli, casomai aggiungeteli, ha una bella casacchina, ha un bel vestito, ha una bella maglia, insomma dai che voi siete brave, non so perché ve lo dica perché tante volte fate due o tre lotti, non vi accontentate di uno ma di tre lotti, anche questo è un affare, è un cardigan aperto sui toni del bluette, secondo me è splendido questo cardigan, anche come misure ci siamo, abbiamo 68 viscosa, 29 acrilico e 3 elasticizzato a 40 euro, anche questo scontato il 184 e 102 di seno e lunghezza 74, c'è anche nella versione rossa, bello da mettere con il bluette questo, nella versione rossa, eccolo qua, splendido anche nella versione rossa e beige, è affinatissima e sempre nella taglia large, quindi 102 di seno, quindi viscosa, dai proviamone uno così lo vedete com'è, va tenuto aperto, costa come una sciarpa e avete invece un cardigan, ecco bello ampio, anche di manica, io adesso ho sotto la mia che magari mi fa un po' di sboffo, la mia manichetta a campana, ecco guardate che chic, lo vediamo anche nella lunghezza, va tenuto così aperto, non deve essere, è come un coprispalle, non deve, non ha bottoni, non ha niente, quindi non deve essere chiuso, è un coprispalla, bellissimo, nella versione rossa, a 40 euro, prendetelo, approfittatene, bellissimo anche nella versione bluette, da mettere anche su un vestitino bianco di lino, non so, adesso tanto per dire, abbiamo qua questo bel manichino, con questo bel vestitino bianco, guarda la borsa bluette per esempio, da fare tutti gli abbinamenti col bluette, ecco guardate che meraviglia, metterci sopra sul bianco, questo bel cardigan bianco e rosso, oppure questo magari metterlo sul blu, oppure anche sul bianco, bianco e blu, poi vi mettete la borsa dell'aura, oppure sul blu, ecco fate voi gli abbinamenti che siete brave anche voi, comunque io ve li suggerisco, il bianco e il rosso è molto di moda, ecco la borsa dell'aura per esempio con l'abito bianco e il cardigan bluette, perché no, è il massimo della raffinatezza, ecco mettiamolo qua e andiamo avanti con dei caftani in seta, seta pure, l'abbiamo fatti l'anno scorso, non mi ricordo quando, comunque non mi ricordo, abbiamo tante cose nei nostri cassetti, anche di pezzi unici, allora bellissima seta che va portato sopra a un abito bianco, per esempio di lino, vengono appoggiati come i nostri caftani che abbiamo fatto vedere anche la settimana scorsa e due settimane fa, sono dei caftani che vengono proprio appoggiati sopra a degli abiti, allora questa è pura seta, lato 186, lungo 85, seno 140, l'abbiamo messa a 40 euro. poi, scusa un attimo, che ho fatto un piccolo danno, non vorrei che andasse in giro, un po' d'acqua, sempre poi in seta abbiamo qualche altro modello che sono pezzi unici, in seta non trasparente, quindi non in gergette, in seta, twill di seta, questa versione bellissima, sì che è una casacca, lato 188, sempre a 40 euro, costavano il doppio e noi li avevamo già a un buon prezzo, larghezza 130, lunghezza 81, bellissima fantasia, vedete noi non ci smentiamo mai, anche su cose di collezione vecchie, tra virgolette vecchie, perché questa è meravigliosa, attualissima, non ci smentiamo mai, le potremmo riproporre dicendo che sono nuovi, richiedere anche 80 euro, che ne avremo 10 sicuramente clienti che le comprerebbero, ma è rimasto un pezzo unico, ci piace continuare ad andare avanti, cambiare ed eccolo qua, a 40 euro, 188, un altro e poi basta, meraviglioso con questi bellissimi abbinamenti, righe beige, rosse, bluette, fantasie con dei medaglioni, con delle lavorazioni laterali, l'insieme è meraviglioso, l'effetto veramente è originale di questi insiemi di fantasie, questi patchwork, questi patterns, come si chiamano in gergo, di diversi tessuti, eccolo qua, è l'887, lungo 80, seno 130, 100% seta. Ecco, poi mi mancano un paio di borse da mostrarvi, ecco, anche sull'ecopelle, noi ci teniamo tantissimo la modellistica, è una splendida borsa, effetto platino, i manici, effetto platino, la cintura che la chiude, su base beige, una bellissima borsa, guardate, strutturata poi con un laccetto che la apre, così, molto bella, se riesco, dalle parti, perché è nuova, e poi cernierina ancora interna, che apre, doppia borsa, quindi molto ampia, è una linea italiana che fa borsa e accessori in ecopelle, molto bella, in effetti era da vendere, è 35 per 30, la faccio a 45 euro, anche con la sua tracolla, attenzione, perché vedo che c'è il posto, quindi ecco qua, anche con la sua tracolla, la borsa è un'ottima qualità, a 45 euro, vi viene scontata, è una borsa meravigliosa, poi abbiamo la sua chiusura, vedete qua, e poi c'è anche, quindi questo è il lotto numero 26, c'è anche in versione nera, che la borsa nera e argento è sempre molto bella, molto attuale, eccola qua, mi sono dimenticata di riempirla, che è molto importante vedere le belle proprio gonfie, piene, eccola qua, sempre con la sua bella busta all'interno, credo che sia anche con tutti i piedini, bellissima anche questa versione nera, sempre con la busta interna, quindi bella grande, e questa è una versione bellissima in nera, e diventa l'otto, ce l'ho in lista questa? Sì, ecco, palla nera, l'otto 27 a 45 euro, eccola qua, guarda che due borse a 45 euro, potete anche prendervele tutte e due, magari per fare un regalo, una la tenete voi e l'altra la regalate, questa la chiudo per creare la forma, questo laccetto è stato messo apposta per creare la forma, ah, mi dimenticavo, la borsa ha anche la cerniera per essere chiusa completamente, quindi ecco, chiusa completamente, poi create il disegno della borsa chiudendo i due laccetti e poi la chiudete qui davanti, ecco, è o no stupenda, ecco, anche questa vi arriva veramente a un prezzo speciale, sia nella versione beige e platino, nella versione nera e platino, bellissima. Ecco, ricordo a tutte le nostre clienti di prendere il depureshi, mi raccomando, ai cambi di stagione è eccezionale, mi dimentico sempre di presentarvelo perché io ormai so che voi siete brave, vi autoregolate, praticamente ve li prenotate da sole, ormai non serve neanche più promuoverlo perché ormai siete tutte clienti che lo state prendendo già da anni e quindi voi stesse vi accorgete che bene che va e che fa e voi stesse vi autoregolate e ce lo richiedete, ma ricordo appunto il prezzo di 44 euro che è sempre anche questo, un sottocosto rispetto al bene che fa e al prodotto che è veramente naturale che abbiamo fatto creare qui a Trento apposta nei studi farmaceutici di un'azienda che crea appunto prodotti per tutto il mondo di parafarmacia e quindi vi ricordo appunto, soprattutto noi lo consigliamo quattro volte all'anno, soprattutto ai cambi di stagione, se vi sentite fiacchi, se anche il caldo magari vi dà fastidio, a parte che vi aiuta a bere perché ogni bustina di queste contenente appunto il ganoderma lucido, un abbinato ad alte erbe che sono anche lassative, che ci purificano, che ci sgonfiano, va bene anche per chi soffre di cellulite, per ritenzione idrica soprattutto perché appunto accumulo di acqua che crea gli inestitismi appunto che a noi donne poi ci fanno impazzire dal nervoso, ecco questa è una purificazione complessa dell'organismo, è una confezione come potete vedere sigillata con 10 bustine in polvere che vi arrivano da diluire nell'acqua, la cura dura 5 giorni, si sospende 2 giorni e si fa altri 5 giorni, in un mezzo litro d'acqua magari è meglio, dopo le 5 bustine appunto interrompete 2 giorni e poi fate gli altri 5, vi consigliamo quindi di bere sempre, soprattutto adesso che siamo in estate e mi raccomando è anche adatto a chi segue diete con pochi carboidrati, guardate che proponiamo questo prodotto insieme ai nostri gioielli sia antichi la sera che moderni che la nostra moda, perché durante i nostri viaggi in Oriente abbiamo trovato questo prodotto fantastico a base di erbe, l'abbiamo provato soddisfandosi per la sua efficacia, abbiamo detto ma perché non lo facciamo fare anche per noi qui e quindi è un disintossicante fantastico, notificato pensate al Ministero della Sanità perché come come è di legge, il depureshi è unico nel suo genere, lo trovate solo da noi, non in farmacia, non in erboristeria perché appunto il nostro si chiama depureshi, non c'è solo il reshi dentro ma c'è anche tutto quello che serve per depurare, oltre che il reshi, quindi è un ingrediente straordinario, il re delle erbe medicinali ed è appunto con l'entusiasmo di sempre che condivido con voi questo meraviglioso dono della natura disponibile da noi all'interno di questo depurativo, quindi il ganoderma oppure il reshi o il linzu col vero nome appunto cinese viene usato da 4 mila anni in Cina, soltanto dagli alti ranghi degli imperatori, per un sano stile di vita adesso cercatelo, telefonate anche in negozio, io vi ringrazio tantissimo veramente per essere sempre con noi tutti giovedì pomeriggio, 4 ore in diretta, abbiamo una trasmissione speciale, solo una volta alla settimana perché ritengo che per fare una trasmissione come faccio io, curata nei minimi dettagli dove appunto ci sono cose solo speciali, particolari e che poi seguiamo noi a livello anche familiare, diciamo, la nostra è un'agenda familiare, non vogliamo distinguerci proprio per questo, quindi per noi 4 ore alla settimana sono il massimo che vi possiamo dare, non vogliamo appunto inflazionarci perché comunque alla fine sarebbe molto difficile riuscire a tenere questo standard per altre puntate, quindi io preferisco poche ma buone, mi raccomando però siccome siamo in onda solo una volta alla settimana, non confondeteci con migliaia di trasmissioni che ci sono 24 ore su 24, Ofelia è un marchio registrato da 20 anni, quindi un appuntamento fisso di tutti giovedì pomeriggio che va in onda dalle 15 alle 18 su Canale Italia 84 e dalle 18 alle 19 sul 126, per tutto l'anno, forse anche per agosto. Grazie mille, vi saluto e allora a giovedì prossimo, ricordo Facebook, ricordo anche YouTube che tutte le clienti che purtroppo non ci riescono a seguire vanno su YouTube e allora c'è il programma registrato. Grazie, da domani vi chiameremo tutte per le conferme, sarà una giornata molto impegnativa se non arriviamo domani anche lunedì. Grazie mille, un bacione, un abbraccio a tutte. tutto. Grazie mille, un bacione. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti